Alessandro Pellitteri, presentato questa mattina, nuovo centrocampista del Campobasso, è il primo neomediano della squadra Rosso Blu, classe 2004, proveniente dall'Alessandria. Graduale la ricostruzione dell'organico da parte di Filipponi assistito da Braia, con l'avallo ovviamente della proprietà Rizzetta. I pezzi forti della nuova rosa verranno annunciati a giorni con l'arrivo dell'esperto Sonni D'Angelo, che viene dato sempre più prossimo a vestire i colori del Campobasso. Pare che ieri si sia raggiunto un nuovo accordo di massima con l'attaccante Di Nardo, che non ha mai smesso di allenarsi anche nel corso delle cosiddette ferie. Molto motivata la punta napoletana, pronto a riguadagnare il professionismo con la maglia Rosso Blu. La creatura di Braia prende forma con molti ex giocatori avuti dal tecnico, alcuni suoi fedelissimi, come lo stesso D'Angelo Bernardotto, che rimane in lizza per far parte del nuovo attacco del Campobasso. Pure il nome di Santaniello, sempre per il reparto offensivo, rimane molto spendibile e gradito dall'allenatore. Nella giornata di ieri ha annunciato anche un nuovo portiere che avevamo anticipato. Si tratta di Andrea Sorrentino, 29 presenze nell'Agragas in serie di la scorsa stagione. Filipponi sta facendo di tutto per convincere il Benevento a rinnovare il prestito di Manuel Esposito. Secondo alcune fonti di stampa, ci sarebbe stata una fumata nera che tuttavia non viene confermata dalla società Rosso Blu. L'obiettivo è quello di fornire a Braia una rosa già quasi al completo per il primo giorno di ritiro, fissato il 18 luglio a Vinchiaturo. La società vuole un Campobasso competitivo per provare a toccare da subito posizioni importanti di classifica. Un traguardo mai celato dall'ambiziosa dirigenza campobassana che ha preferito andare sul sicuro con la guida tecnica. Braia infatti è individuato da più parti come una vera garanzia. È fra gli allenatori più anziani della Lega Pro. Quasi 1300 panchine, esperienza trentennale. Cinque campionati vinti alla guida di Montevarchi, Catanzaro, Pisa, Juve, Stabbia e Cosenza. Un carattere non facile nel rapporto anche con la stampa, ma garanzia di risultati. Almeno questo il campo ha detto nella carriera del tecnico di Grosseto. A Campobasso i tifosi auspicano che la scelta possa essere quella giusta, accompagnata anche da quella, ovviamente, dei calciatori. Aria di pesante contestazione a Perugia, dove i tifosi del Grifone minacciano di boicottare la prossima campagna abbonamenti. E' quello che sta accadendo in Umbria nelle ultime ore, dove il presidente Massimiliano Santopadre è pesantemente nel mirino della tifoseria. Oltre 300 tifosi del Perugia si sono ritrovati sotto la sede societaria per manifestare il proprio disappunto nei confronti della proprietà, che ancora non procede con la cessione delle quote. Aria tesa nel capoluogo Umbro alla vigilia dell'inizio della nuova stagione di Lega Pro.